mi sono persa il concetto dov'è che dovevo arrivare e poi come secondo strumento abbiamo la luminosa che fa che cazzo fa la luminosa fonte di luce che elimina i ratti non mi ricordo dove mi ero fermata che stavo andando bene non succederà più sarà una specie di recensione però e che iniziamo male sono la seconda frase ma sai che c'è la gente nei video sbaglia un sacco si corregge e va avanti non posso farlo anch'io prova un'altra cosa molto simile che puoi fare è proprio quella di visitare un nuovo posto quindi di prendere e andare sul lago in barca ma sì sul lago in barca una roba più semplice magari mi sono paralizzata spero che abbia funzionato in un qualche modo lo farò funzionare oggi vediamo i nove strumenti di amicia via blog tale e di come usare vedi adesso mi è roto equilibrio ok non è finito da qua devi incollare il pezzo successivo più o meno all'inizio mi fermi tutto finito oh 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 oh... Grazie a tutti